Primo, via libera dunque al Senato al disegno di legge voluto dal ministro Valditara sulla scuola. Oltre alla stretta sulla condotta, il testo introduce sanzioni a molte per chi aggredisce il personale scolastico e stabilisce il ritorno ai giudizi sintetici anche per la scuola primaria. Insomma, c'è materia sufficiente per una riflessione e un commento da parte dell'amico giornalista Orazio Niceforo, che ricordo essere giornalista di tutto scuola, che ben volentieri abbiamo richiamato in trincea perché c'è bisogno di voci sagge che possano commentare quanto oggi vi diremo. Intanto la sigla. E salutiamo allora l'amico e collega Orazio. Benvenuto, bentornato tra di noi. Buona giornata a te. Grazie a tutti. Dunque noi dobbiamo commentare questa bozza, ricordiamo che deve poi passare ancora alla Camera, dovrà essere approvata. Intanto che giudizio generale dai di quanto è stato deciso e che in sintesi ho annunciato in anteprima? Complessivamente è un tentativo di dare una risposta a una domanda che viene con forza dalla scuola, che è quella di una protezione dell'istituzione e di chi più la rappresenta, insomma, che sono gli insegnanti. Nei ultimi anni sono stati, come dire, bersaglio di comportamenti che ne hanno irriso, negato l'autorità, la funzione. Ecco, quindi, anche se naturalmente il dibattito è ampio, non tutti sono d'accordo sul fatto che una stretta di tipo repressivo, come in pratica è questa, serva per risolvere il problema. Però, secondo me, almeno per fronteggiarlo qualcosa si doveva fare, anche questo provvedimento, pur essendo discutibile per alcuni aspetti, però va in quella direzione. L'alternativa qual era? Di non fare nulla? Insomma, una risposta istituzionale doveva essere data, insomma, a difesa proprio della scuola come sistema, come istituzione. Ti sei spiegato molto bene, Orazio. Dunque, vediamo a volo d'uccello di commentare qualche provvedimento. Intanto, bisogna dire subito, attenzione, amici discenti che frequentate e frequenterete le aule scolastiche alla condotta. Come era? Mi par di poter dire, Orazio, ai nostri tempi, no? Io ricordo le mie medie, non parlo di liceo, di generale di liceo, ma le medie sicuramente il voto di condotta era importante. Bocciatura col 5 in pagella, anche alle medie appunto, mentre alle superiori con il 6 sarà necessario un esamino, anche qua riparatore. Con un 8 in comportamento, sempre alle superiori, si rischia di pregiudicare il 100 alla maturità. Tu giustamente hai detto, potrebbe essere definita, giudicata una norma abbastanza restrittiva, forse anche un poco autoritaria, ma forse ce n'era un poco bisogno. Visti i dati, così come li ho enucleati e di cui abbiamo dato quindi corrette informazioni, adesso come meglio puoi commentare dunque il voto in condotta? Dunque, l'idea sul termine educazione c'è un vasto dibattito, perché secondo alcuni l'educazione comprende anche l'educazione diciamo morale. L'educazione ha un buon comportamento da un punto di vista dell'accettabilità sociale e morale. Ecco, secondo altri invece il compito del sistema di istruzione è appunto quello di istruire, cioè di fare in modo che gli studenti apprendano gli strumenti della conoscenza attraverso le diverse discipline. Infine, il comportamento in un certo senso è corretto, è implicito, è dovuto. Non c'è nessun esplicito cenno, ecco l'unica legge che è stata fatta in questo ambito è l'educazione civica, norme sull'educazione civica. Cioè, che è un tentativo di istituzionalizzare un'idea di educazione, di comportamenti corretti. Ecco, a proposito di comportamenti corretti, Orazio, ti ricordo che l'insufficienza è prevista anche nel caso di mancanze disciplinari gravi reiterate durante il corso dell'anno scolastico. Fantastico, non è un episodio che fa primavera, senti alla vera e propria condotta. Può capitare, certo, ecco, un gesto di impazienza, insofferenza, nervosismo, quant'altro, o anche di stupidità, insomma, a volte. Ciocchezze adolescenziali. Sì, certo, certo. Potremmo capire, se ripetute, insomma, due indizi, tre indizi, no, fanno una prova poi. Ecco, quindi qualcosa si doveva fare, ecco, secondo me. E quindi, anche se io o noi, anche di tutto scuola, siamo sempre stati più favorevoli a, diciamo, a norme che inducano comportamenti proattivi, comportamenti corretti nel fare, ecco. Non tanto l'apprendimento teorico della nozione di correttezza, ma quanto il comportamento in concreto corretta, che vuol dire rapporti con i propri compagni, comportamento all'esterno della scuola, no? Per esempio, nelle gite scolastiche. Quindi, secondo noi, se ci fosse stata una maggiore esplicitazione di cosa si intende per cittadinanza solidale, che dovrebbe essere la terapia, diciamo, per ricondurre sulla via giusta gli studenti che si sono comportati male, ecco, ci fosse stato un approfondimento di questo, cioè prevedere per tutti, e non soltanto per i rei, per tutti gli studenti, queste azioni solidali. Noi abbiamo, come tutta scuola, seguito esperienze di service learning, che consistono in piccoli servizi che vengono resi dagli studenti alla comunità, che hanno un certo valore di solidarietà sociale. Ma questo ho visto che è contemplato sotto la voce sospensioni, non più la sospensione, l'allontanamento dalla scuola, ma la partecipazione ad attività scolastiche. Ecco, questa cosa, se fosse prevista per tutti, insomma, avrebbe una funzione anche preventiva nei confronti di tutti, ecco. Certo, certo. Invece così diventa appunto una punizione, però, ripeto, insomma, una cosa bisognava fare. Senti, Orazio, perdonami, voglio darti il tempo di commentare anche le altre situazioni. Ad esempio, sono veramente curioso di sentire il tuo parere sui giudizi sintetici alle primarie, perché per gli alunni delle scuole, la scuola primaria, ai giudizi, chiamiamoli analitici di prima, sul percorso dello studente, si aggiunge adesso un giudizio finale sintetico per tutti gli altri. A partire quindi dalle medie il voto sarà espresso in decimi, contribuirà, leggo testualmente, alla media finale come tutte le altre materie. Insomma, il tema è giudizi sintetici anche alle primarie. Sì, dunque, su questa questione c'è un lungo dibattito che nasce già nel 1977 quando i voti furono sostituiti dalle schede. Le schede erano, al contrario dei voti, dei giudizi analitici. Erano giudizi in cui si faceva il punto sul livello di preparazione, diciamo, dello studente, ma anche contestualmente consigliandogli come fare per migliorare. Ecco, i pedagogisti, i psicologi e i pedagogisti hanno sostenuto, sostengono tuttora, che questo modo, diciamo, di approccio, di gestire la relazione tra docenti e studenti sia più produttivo dal punto di vista educativo di un giudizio, diciamo, sintetico, appunto, riassuntivo, finale. Secondo me, però, bisogna vedere come verrà gestita questa cosa, perché la norma non dice che questi giudizi sintetici sostituiscono quelli analitici. Arrivano alla fine di un percorso. Alla fine di un percorso. Allora, se durante il percorso invece si continua a utilizzare i giudizi analitici, che sono quelli che dicono allo studente che cosa deve fare per migliorare questo in pratica. È una valutazione di tipo formativo, si dice nel linguaggio tecnico. L'altra valutazione, invece quella finale, è conclusiva, è sommativa, si dice. Se ci fosse soltanto il voto, anche nel corso dell'anno, effettivamente mancherebbe allo studente, alla famiglia, anche allo stesso insegnante, tutto sommato, un percorso, diciamo, per condurre lo studente a migliorare il suo livello di apprendimento. Certo, certo, giusto quello che stai dicendo, giustissimo. A ogni giudizio analitico corrisponde, che è di diagnosi, corrisponde anche una terapia. Invece il giudizio sintetico è soltanto la conclusione del discorso. E alla fine, dopo aver esaminato tutta la dinamica, diciamo, dell'apprendimento dello studente, si stabilisce sia sufficiente, non sufficiente. Ecco, diciamo che la ragione che Valditara e molti portano a sostegno di questi giudizi sintetici è la loro maggiore trasparenza e comunicabilità. Cioè, le famiglie chiedevano, ma cosa significa in via di apprendimento, in via di raggiungimento della soglia minima, diciamo così? Sarebbe, tu dici, sarebbe importante che venisse fatto l'accompagnamento a giudizio finale. Certo, quello è fondamentale. Non sono sicuro che serva il gravemente insufficiente, perché su questo Valditara non l'ho escluso, quindi secondo me sarebbe, ecco, questo sì, un po' penalizzante. È vero che ci sono, come ci sono tanti livelli di sufficienza che vanno fino all'ottimo, al dieci, così ci sono anche dei livelli di insufficienza che possono essere più o meno gravi. Però, francobollare uno studente con un gravemente insufficiente significa un po' quasi condannarlo. Certo, mi pare... Senti, Orazio, da ex professore, ex preside, è un po' un ritorno al passato, si sente un po' orecchiare quello che succedeva negli anni 70 e 80 appunto. Ma c'è questa grossa... Come sono andate le cose, speriamo di notare. Senti, c'è però questa novità che è di questi nostri tempi, le multe per le aggressioni al personale scolastico. La somma, pensate amici, varia dai 500 ai 10.000 euro e per fortuna si dice, leggo virgolettato, a titolo di reparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. Quindi, va alla scuola e all'istituzione. Cosa ne pensi? Dunque, allora, il tentativo che sta facendo Valditara, come stanno facendo anche altri ministri in altri paesi, dove la scuola pure è un po' in crisi per quanto riguarda la considerazione sociale. Insomma, per esempio, non so, in Francia si va in una direzione analoga. Ecco, il problema è la caduta del principio d'autorità. Secondo noi, secondo me, il fenomeno è un fenomeno epocale, cioè nasce già nei primi anni 60. Una sua manifestazione eclatante è stata il 68. per quanto riguarda la scuola, la contestazione del ruolo della scuola e dell'autorità della scuola. Quindi la negazione del principio d'autorità. Però, ecco, attenzione, già prima, nei primi anni 60, era stato individuato questo fenomeno. c'è uscito un libro nel 1960, pubblicato poi anche in Italia, ma dopo qualche anno, che si chiamava Verso una società senza padre. Cosa significa? Che in una famiglia l'autorità rappresentata tradizionalmente, diciamo, dal padre, magari la madre rappresenta altri valori, l'affetto, l'organizzazione domestica, la cura, i sentimenti, ma il padre, invece, era sempre stato considerato come la fonte dell'autorità, della famiglia. Le regole le stabilisce il capo famiglia, il padre. Ecco, questa cosa, già diceva questo psicologo tedesco nel 1960 in questo libro, è un fenomeno destinato a tramontare, perché la famiglia sta evolvendo in una direzione più ugualitaria, che nega il principio d'autorità. Per questo, diceva, intendendo verso una società senza padre, intendeva verso una società senza principio di autorità. Ora, siccome uno dei luoghi nei quali il principio di autorità in qualche misura deve essere fatto valere, è proprio la scuola, ma non l'autorità come imposizione, come carcere, come repressione. Le autorità come autorevolezza, come prestigio, come riconoscimento del ruolo. Ora, questa cosa, soprattutto nel ventunesimo secolo, con tutte le diavolerie che sono nate dal punto di vista tecnologico, questa cosa ha un po' minato anche l'autorità e l'autorevolezza dell'insegnante, perché se lo studente è in grado, e la sua famiglia alle spalle, tante volte il problema è la famiglia, è in grado, facendo una ricerca su Google, di dire, ah, qui il professore ha sbagliato, perché qua c'è scritto così, insomma, purtroppo l'uno vale uno ha creato tanti problemi e anche questo qua. Non è vero che uno vale uno, perché solo che è complicato, ecco, ristabilire. Valdetara sta provando, sta provando, con questa multa, il cui beneficio è a favore dell'istituzione, non della persona. Ecco, quindi non va all'insegnante che è stato, che si è schiappeggiato, va all'istituzione perché il genitore che ha fatto questo, o lo studente che ha fatto questo, non ha rispettato il ruolo istituzionale nel luogo in cui sta. Senti, ho soltanto il tempo di interpellarti, ma ho bisogno di un giudizio sintetico perché siamo arrivati ai capolinea, non tanto sul tema delle chiusure per le feste religiose che te le lascio fuori da ogni commento perché lì dovremmo fare tutta un'altra puntata, ma ti chiedo un commento invece sul ripristino ventilato dell'apertura durante i tre mesi estivi senza lezioni, praticamente se lo ricordiamo già per il periodo Covid, ora come allora la raccomandazione è quella di usare i tre mesi abbondanti senza lezioni che sono tornati di recente al centro anche del dibattito politico. Tu cosa ne pensi? Io penso e ho sempre pensato anche da tanto tempo e scritto che l'Italia in questo è proprio un'anomalia a livello mondiale, nel senso che noi abbiamo un record mondiale della durata consecutiva di vacanze estive. Ora, questo interrompe è il processo di accumulazione e sedimentazione diciamo delle conoscenze. Quindi molti altri paesi distribuiscono le vacanze nel corso dell'anno, cioè mettono magari una settimana ogni due mesi, ogni mese e mezzo. In questa maniera lo studente ha la possibilità diciamo di recuperare dal punto di vista psicofisico se vogliamo e quindi riprendere con non è che una settimana non si va a scuola per una settimana succede che lo studente dimentica soprattutto a quell'età insomma si tende ad assorbire ad accumulare. Ora se l'intervallo tra un percorso diciamo di accumulazione e quello successivo è così lungo è un investimento che poi non si sedimenta cioè tende bisogna poi per questo c'erano gli esami di riparazione una volta no? Perché in un certo senso a settembre quindi un po' prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo per consentire allo studente che aveva qualche problema di ripartire avendo recuperato quel ritardo che aveva determinato l'insufficienza ora naturalmente non è che noi possiamo tornare all'antico da questo punto di vista però distribuire meglio da questo punto di vista allora tenere aperta la scuola durante l'estate non continuando a fare le azioni come nel corso dell'anno ma svolgendo delle attività educative e sociali diciamo che sono in relazione con quello che si è studiato e imparato ecco può contribuire certamente a far ripartire nel nuovo anno in condizioni migliori e quindi ridurre soprattutto la dispersione che è il dramma della scuola anche questo hai ragione è molto importante Orazio ti devo salutare ma prima ti devo ringraziare come sempre la saggezza unita all'attenzione alla quotidianità e al presente il passato ben radicato ma che non sa che sa ben guardare anche il presente sperando che il futuro almeno in ambito scolastico si risolva in migliorie anche d'altro genere magari in un'altra puntata ne potremo parlare e le dirizie scolastiche agli insegnanti ringrazio dunque Orazio Nicefforo giornalista di tutto scuola ti auguro buon lavoro a presto a presto rivederti su questi schermi Orazio e buona fortuna anche per la trasmissione ti ringrazio agli ascoltatori grazie a te ti saluto veramente grazie a presto grazie a presto grazie a tutti